Allora, l'Inter vince 2-1 in casa del Sassuolo e a Mappé Staudim ovviamente, quindi stava in casa del Sassuolo Dopo che il Sassuolo tra l'altro stava vincendo 1-0, quindi l'Inter ha vinto il rimonto Sento parlare del fatto di Dzeko, Dzeko abbia fatto un partitone, entrato a partita in corsa, ha cambiato la partita Che oltre a fare gol, il primo, il secondo si è procurato il rigore, che poi ha segnato Lautaro Ma a parte quello, sento parlare tanto di Dzeko, sento parlare del portiere, di Andanovic che ha fatto il fallo Un giocatore di Sassuolo e per molti era da espulsione, per molti doveva essere anche, diciamo in generale, un fallo Eccetera, secondo me no invece, io essendo napoletana dovrei essere, non di parte Ma io, cioè, dico secondo me non è da rosso, secondo me Dzeko perché è vero che la tocca Però sinceramente Andanovic fa di tutto per scansarsi comunque, cioè si toglie Non è che poi dopo puoi sparire, perché poi in fin dei conti non è che il corpo di Andanovic può sparire Quindi nel momento in cui fa l'uscita di Andanovic lo tocca sì, però sinceramente, anzi fa il gesto di volersi spostare Quindi non è che poi il corpo può sparire nel momento in cui fai l'uscita Per me esagerà a dire, molti dicono che aveva il rosso, era fallo, tutto quanto secondo me no Quindi partita vinta grazie ai cambi, grazie alla panchina, grazie alla rosa dell'Inter Perché Dzeko ha cambiato la partita entrato, dopo 15 secondi ha segnato un gol di testa Con un grandissimo assist e un grandissimo rilancio di Peric C'è da dire che Peric ha fatto un partitone, Peric stava dappertutto Ha fatto l'assist con un tiro lungo che se non la prendeva con la testa Dzeko poteva prenderla con i piedi Perché comunque era una grandissima palla Il rigore che c'era per l'Inter, perché a differenza di Andanovic Consigli, il portiere di Sassuolo, gli ha dato proprio un'ancata e poi ha preso la palla Quindi secondo me c'è grandissima differenza con l'uscita di Andanovic E io non sono una di parte, perché lui è interista, no Da napoletana devo dire che l'uscita di Andanovic invece è differente Perché Andanovic esce, tocca la palla, poi prova a scansarsi con il corpo Quindi sinceramente dare lì rosso, addirittura dare falso secondo me no Poi ognuno ovviamente nel calcio la vede in modo diverso Quindi questa è per dire delle critiche che ho letto in giro Secondo me, mio parere, poi ognuno la vede come crede E quindi vittoria meritata per la panchina Perché io come, infatti avevo detto io Che la panchina dell'Inter faceva la differenza Anche quest'anno la rosa Per quanto ha venduto la Lukawa, Hakimi e tutto quanto Ma anche oggi è sostituito di Hakimi E The Fall, pure non hanno fatto assolutamente Di impiangere Hakimi in questo inizio di stagione In Europa e tutta altra cosa Ma in Europa le partite sono più complicate Quindi di conseguenza L'ha vinta in Zaghi con i suoi cambi E poi l'ha persa anche il Sassuolo Perché comunque il Sassuolo Un po' come il Torino con la Juve Che ha vinto la Juve il derby per 1-0 con il Torino L'hanno persa anche il Torino e il Sassuolo queste partite Perché nel momento in cui tu stai 1-1 Le squadre piccoline, parliamoci chiaro Nel momento in cui prendono il gol E poi se ne cadono Finché stanno 1-0 E si difendono e non riescono a prendere il gol Benissimo Come prendono il pareggio O prendono un gol Se ne cadono queste squadrette Perché comunque tu Sassuolo e tu Torino Stai comunque pareggiando Prova a meno a mantenere il pareggio Tu Sassuolo Invece prendi anche il secondo gol E sul secondo gol Sto passato sul gol di Diego Ma anche Ma c'era una prateria Comunque E poi Sassuolo Chiri che è ex giocatore Napoli difensore Chiri che è scarso Era scarso nel Napoli E scarso anche qui E poi c'è Berardi Che a me sinceramente Sto Berardi a me non è mai piaciuto Tutti quanti negli anni Ma meritano a B Che vale 50 milioni Io ho sempre detto E Berardi è sopravvalutato Continuo a pensarlo Perché è un giocatore Che dicono sempre Deve crescere Deve crescere Poco arriva a 30 anni Ma troppo arriva a 30 anni Ma quanto deve crescere Questo è Questo è Berardi Questo è Se è una biga Ancora non se l'ha comprato E questo è il motivo A differenza di Locatelli Però c'è da dire Le squadre di Allegri Ovviamente Tipo l'anticalcio Di Simeone Simeone è l'anticalcio Però a volte riesce a portare risultati Come ha battuto il Milan 2-1 Quando l'ha abbattuto Mi sembra 2-1 Sì Non è bello da vedere Però porta i risultati Bisogna vedere Deve uno che cosa apprezza Se la bellezza Dice vabbè Per me non mi coto Anche se perde La mia squadra a Parigi Ma mi coto il bel gioco Oppure brutta Brutta partita Brutto il gioco Però a volte risultato E tre punti a casa Sono punti di vista Io Io da una parte Vorrei che il Napoli Diventasse un po' più cinico Nel senso Mi piace che il Napoli Gioca bello Ti rifegli occhi Per il gioco Tanti gol Ma vorrei che anche il Napoli Fosse un po' più Come ti dice Pulito in difesa Però i terzini Vabbè Se non è vero Quindi vedremo Ci vediamo nel prossimo video Ragazzi Forse il Napoli sempre Ripeto Per lo scudetto Vedete sempre Inter Juve Quelle da scavalcare Perché la Juve Si è ripresa Si è capito già E l'Inter Quelle che ha minuto lo scudetto E c'è ancora una rosa Molto forte Di Marco Poi c'aveva in panchina Kolorov E poi è entrato Correa Uscito Che non ha giocato granché Però Correa Poi c'era viva E poi c'aveva Vidal Vidal Ha anche fatto una buona partita Quando è entrato L'ha cambiata Ragazzi La rosa Lunga Alla lunga È quella che ti fa vincere Che i scudetti Che ti fa andare in Champions Che ti fa vincere Un trofeo europeo Quello è Ci vediamo nel prossimo video Forza Ciao 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 in breve.